Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini questa mattina in visita di cortesia al quotidiano Il Centro e al suo direttore Piero Anchino nell'ambito del tour organizzato dal PD abruzzese per la campagna elettorale per la presentazione dell'ultimo libro dell'esponente del Partito Democratico Il Paese che vogliamo. Stefano Bonaccini, intervistato dai colleghi del Centro, ha parlato anche al nostro microfono esordendo con il giudizio sul governo e sulla figura di Draghi al tempo della pandemia. Adesso è un governo che mi pare ci stia portando fuori dalla pandemia sanitaria, è stato in grado di ottenere questo PNRR con 230 miliardi di euro che sono un'occasione storica e imperdibile per le regioni, lo Stato stesso e vedremo se saremo capaci di spenderli. Adesso abbiamo bisogno di stabilità, quindi io mi auguro duri fino a fine legislatura, è evidente che è un'alleanza innaturale, ci si tornerà a dividere con la Lega tra qualche tempo, ma per ora mi pare sia l'unica condizione per dare risposta agli italiani. Green Pass obbligatorio, che ne pensa? Io lo chiedevo quando il governo non l'aveva ancora messo in campo. Io penso che la decisione del governo di estendere il Green Pass a tutti i luoghi di lavoro sia proprio per cercare di evitare l'obbligatorietà vaccinale, che il fatto stesso che nessun paese democratico sia stata introdotta significa che non è così banale e facile realizzarla. Sarà l'extrema razio se non aumenteranno ulteriormente le vaccinazioni. Devo dire che mi hanno molto stupito i leader della destra, Meloni e Salvini, l'una a dirsi contro il Green Pass senza nemmeno dire in alternativa cosa fare. A fare opposizione così sono capace anch'io. Dall'altra all'altro che governa e lei ha sentito qualche mio collega presidente di regione della Lega dire che era contro il Green Pass. Più di qualche voce la dà a capo del Partito Democratico? C'è un segretario che è bene che stia lì, quello a cui anch'io Enrico Letto ho telefonato quando era a Parigi per venire senza congresso, che sarebbe stato ridicolo farlo mentre la gente modriva, veniva ricoverata, aveva paura di perdere il lavoro, chiudere l'impresa. Il segretario c'è, va aiutato. Io sono qui anche da questo punto di vista. Quale paese immagina lei? Un paese un po' più moderno, che sappia valorizzare meglio le tante eccellenze che ha. Adesso ci cimenteremo con questa sfida di queste importanti risorse europee, anche queste avute, perché chi è creduto nell'Europa, a differenza di chi girava con le magliette no euro, trova un'Europa che anch'io ho criticato in passato perché oggi fa fino in fondo il proprio dovere. Per investire sulla qualità bisogna investire sulla scuola, l'università, la formazione continua e un po' più in ciò che era passato di moda, scuola e sanità pubblica. Il futuro del centro-sinistra? Se i 5 Stelle confermeranno l'impostazione di questi mesi, europeista e progressista, saranno naturali alleati con noi, però io eviterei di pensare che basti mettere insieme PD, chi c'è alla nostra sinistra, i 5 Stelle, per battere questa destra. Per concludere, Presidente, il direttore del centro Pieranchino ci ha svelato una piccola chicca che lei è appassionato dei nostri trabocchi. Sì, sì, ci sono stati, sono meravigliosi. È uno di quei tratti identitari, se vuoi promuoverti nel mondo, a proposito ad esempio di turismo e attrattività di questo paese, devi valorizzare le eccellenze. Chi li ha i trabocchi nel mondo? Chi li ha i trabocchi nel mondo?